Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, il tema oggi è l'acqua, che è uno dei temi originari della manifestazione, appunto, di fiuti acqua ed energia, fare i conti con l'ambiente. Siamo con il dottor Franco Fogacci del gruppo ERA, e oggi parliamo di depurazione delle acque. E di cosa parlerà dello specifico invece nel nostro intervento? Sì, ma dello specifico tratterò alcuni argomenti relativamente al tema della depurazione, che negli ultimi anni è diventato il cuore del ciclo idrico per una serie di motivi che vanno dalla retratezza complessiva del sistema, e quindi l'esigenza di grandi e forti investimenti, e anche un po' i cambiamenti climatici, che hanno causato un progressivo impatto sempre più forte di questi eventi sulla popolazione. Sappiamo tutti che nell'ultimo anno le cosiddette bombe d'acqua hanno influenzato molto la vita dei cittadini, e ovviamente una parte della responsabilità di questi danni è sicuramente causata dalla retratezza strutturale del nostro sistema. Grazie, grazie, fare i conti con l'ambiente, buon lavoro. Grazie. Grazie.